Salve ragazze, questa volta ho una mini recensione che ci è stata richiesta da una presentatrice Avon e quindi cerchiamo appunto di accontentarla allora, parliamo dell'emolliente della linea Enew che è la linea che ha quei prodotti specifici per certi tipi di età allora, questo arriva in una scatolina di cartone quindi qui non c'è scritto nulla io la scatolina l'ho gettata perché ce l'ho già da un paio di mesi però mi pare che comunque sul sito trovate già delle informazioni quindi grammi di prodotto e simili allora, la confezione, il packaging è molto carino perché è madreperlato con questa fascia dorata, quindi abbastanza lussuoso non è un burro di cacao, nel senso che non va confuso con il labello con l'emolliente per, non so, dei provenzali, con quello di brochet insomma, anche perché se vogliamo fare paragoni non ce n'è per nessuno onestamente spanne sopra questo qui dell'Avon io ho un prodotto che acquisto, riacquisto, riacquisto, riacquisto come vedete non dico bugie perché comunque mi piace tantissimo lo metto anche leggermente fuori dai contorni delle labbra perché ha questo effetto riempitivo quindi è molto idratante e previene anche le rughettine che si possono formare sul contorno labbra il colore è questo qui che vedete cioè l'ho già un po' svuocciato sempre questo madreperla molto molto soft e io lo metto anche quando faccio dei trucchi per gli occhi molto pesanti e non mi va di mettere ulteriore colore sulle labbra e magari ho, non so, le labbra un pochino secche quindi con questo ovvio benissimo ovviamente lo metto anche tutti i giorni non è di quel burro di cacao tipo labbello che quando si mette si deve rimettere dopo un'ora si rimette, si rimette questo lo si mette e lascia comunque le labbra idratate per moltissimo, moltissimo tempo è un prodotto che io consiglio decisamente soprattutto a quelle donne che hanno bisogno di un'idratazione un pochino profonda io con questo ho fatto non con questo, con un altro però con questi emolienti ho fatto tutto l'inverno e non ho mai avuto problemi di spacchettini sulle labbra o simili quindi un prodotto consigliato ha anche una protezione solare quindi è veramente perfetto per qualsiasi stagione fatemi sapere voi se lo avete provato e che cosa ne pensate ciao